Salve, da questa audizione si è evinto che l'antimafia è diventata il bar del PD, quindi il livello è praticamente bassissimo, domande che offendono l'intelligenza umana, si è dimostrato per l'ennesima volta un Movimento 5 Stelle che è intervenuto tempestivamente, è un uso veramente fazioso da parte dei partiti della Commissione Antimafia contro il Movimento 5 Stelle. Ci teniamo a sottolineare che ci aspettiamo ora finalmente che vengano esaminati dalla Commissione Antimafia e non da questo che è diventato il bar del PD, i casi di Reggio Emilia dove addirittura ci sono vicende che riguardano un attuale ministro come Del Rio, il sindaco del PD Vecchi, ci aspettiamo stesse cose su Catania o su Nola, perché non è possibile che la Commissione Antimafia chiuda gli occhi davanti a casi veramente clamorosi e concreti con fatti molto gravi e invece sia così attenta davanti il caso di Quarto. Noi comunque a Quarto abbiamo dimostrato che non abbiamo nulla da temere, ci siamo presentati mentre invece gli altri sfuggono e non vogliono presentarsi in Commissione Antimafia. Grazie a tutti.